I movimenti razionalista e funzionalista alla base del movimento moderno hanno dato vita a forme lineari e geometriche semplici ed essenziali la cui determinazione era affidata da un lato all'analisi delle caratteristiche e delle funzioni alle quali l'oggetto d'uso edificio prodotto era destinato dall'altro alle scelte delle più idonee tecniche costruttive. Il movimento moderno sosteneva in buona sintesi che la forma di un edificio o di un prodotto derivasse dalla sua funzione e quindi dovesse rispondere a criteri di semplificazione e razionalizzazione attraverso la riduzione di ogni componente liberamente espressiva e la riduzione di ogni apparato decorativo. L'approccio funzionale soprattutto in architettura era stato varie volte rivalutato nel rinascimento, nell'architettura neoclassica con i luminari come Gottfried Semper e Eugène Emanuele Lele Duc. Negli Stati Uniti l'architetto americano Louis Sullivan conia nel 1896 l'espressione form follows function, ossia la forma segue la funzione. Tale metodologia assume dunque nel XIX secolo soluzioni di validità universale. Alla maturazione di una modernità nuova hanno contribuito gli apporti scientifici del positivismo, la nascita dell'industria e le molteplici sollecitazioni delle avanguardie figurative, dal cubismo al neoplasticismo, dal futurismo al costruttivismo. Il movimento moderno ha di fatto raggiunto la sua fase di massima vitalità negli anni tra i due conflitti mondiali, in Germania con Walter Gropius e Mies van der Rohe e in Francia con Le Corbusier. I loro edifici prevalentemente progettati sulla base della destinazione d'uso sperimentano i nuovi materiali industriali come l'acciaio, il cemento armato per la struttura, i mattoni per il tamponamento, l'intonaco per le finiture esterne, i telai in ferro e vetro per le superfici trasparenti per i quali la compattezza dei volumi evidenzia l'estetica della macchina e della modernità. Le Corbusier definiva la casa una machine à habité, una macchina da abitare. Sono esempio di questa tendenza alcune note architetture, come le officine Fagus di Gropius e Meyer nel 1911, corpi di fabbrica in sospensione caratterizzati da intelaiature di vetro in aggetto rispetto al rivestimento portante in mattoni, e l'edificio del Bauhaus, realizzato sempre da Gropius nel 1926 a Dessau, il più significativo progetto della sua carriera. Qui la moderna tecnica costruttiva di pilastri sostiene la struttura e permette estese superfici vetrate che rivelano la industriosa attività laboratoriale della scuola. Ai volumi articolati in spazi per laboratori, aule, accoglienza e alloggi per gli studenti corrisponde un dettagliato studio ergonomico degli interni con arredi ed attrezzature ad hoc. Abbiamo poi il Weisenhof Siedlung di Stoccarda del 1927, occasione di sperimentazione di un pool di architetti modernisti che dimostra in concreto la sperimentazione della costruzione in cemento armato, lo studio sull'alloggio in serie e la progettazione sistematica degli interni. Di poco successivo ed emblematico esercizio di sintesi ergonomica è la cucina di Francoforte di Margaret Schutz-Liottsky. Altro esempio di architettura moderna è il padiglione della Germania all'esposizione internazionale di Barcellona del 1929 di Mies van der Rohe, dove il suo pensiero, sintetizzato nella massima less is more, si rivela nella semplificazione assoluta degli spazi e la loro razionalizzazione intorno a setti murari ortogonali. Le parti strutturali delle pareti dei pilastrini quanto gli elementi di arredo sono minimi. La sedia Barcellona infine riassume il gusto Bauhaus reinterpretando il passato di un trono romano con linee essenziali e pulite. Infine merita menzione la Ville Savoie di Le Corbusier, costruita nel 1929 a Poissy, nella periferia di Parigi. È mirabile applicazione dei suoi cinque principi dell'architettura, sistema piloti, pianta e facciata libera, finestra orizzontale e tetto giardino. Essi sono tutti da considerarsi costrutti essenziali per l'abitazione moderna aperta alla luce del sole e al verde della natura. La razionale e rigorosa organizzazione degli spazi interni intorno al cammino ascensionale della rampa è enfatizzata dall'adozione di mobili, dal design lineare e geometrico, come la seduta Chaiselong numero B306, una sedia basculante dal vestimento in pelle di vitello su struttura in metallo laccato nero, realizzata in collaborazione con Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. La grande lezione, impartita dal movimento moderno, fortemente ancorato all'assolvimento della funzione in primis, è quella spinta e ricerca continua, quasi con parvenza di scientificità dell'esattezza della forma, addirittura della sua perfezione, estesa a tutte le scale di intervento. L'estetica funzionalista e razionalista vennero largamente diffuse negli anni 30, innervando i contenuti di molte riviste di avanguardia e animando i convegni internazionali del CIAM, congressi internazionali di architettura moderna che aprivano il dibattito sulla città funzionale, i tipi edilizzi residenziali, le modalità e finalità costruttive. Lontani dai clamori e dagli assunti dei grandi centri delle avanguardie e dell'innovazione stilistica, Parigi, Berlino, Londra, New York, i paesi scandinavi si caratterizzano per avvicinare la modernità con una progressiva trasformazione, secondo una semplificazione razionalista della tradizione neoclassica locale. Il linguaggio funzionalista moderno del design scandinavo è caratterizzato da uno spirito democratico ed una consapevolezza civile per la realizzazione di luoghi e prodotti sobri, accessibili e duraturi, caratterizzati da caldi interni domestici in questi freddi paesi giustificati dall'abbondanza dei materiali grezzi, in particolare il legno. Le architetture, gli arredi e gli oggetti nordici di inizio novecento avevano linee funzionali ed essenziali, la cui eleganza aveva risvegliato l'interesse sia del Bauhaus che del razionalismo. Tra i principali esponenti del mondo progettuale moderno dei paesi scandinavia vi ricordiamo Eric Gurnard Asplund che avviò una revisione delle tipologie dell'arredo continuando a dare voce al legno, materiale largamente disponibile e così fortemente caratterizzante ai paesi nordici. La sua poltrona Senna del 1925 esalta le forme levigate rese essenziali attraverso una sapiente opera di sottrazione. E Bruno Matson, sempre svedese, che con le ricercate forme della poltrona grasshopper degli anni 30, esprime la matrice funzionale di riposo nell'articolato bracciolo e nel dolce profilo della seduta schienale realizzato in fasce di canapa intrecciata. In Danimarca troviamo Carr Clint, convinto assertore del valore sociale del design, il quale coniuga tradizione e razionalità scientifica nell'ergonomia dello sgabello propeller e nella church chair. E troviamo anche Paul Henningsen, talentato designer di lampade, che realizza in collaborazione con l'azienda Lewis Paulsen la serie PH, poi Art Choke Lamp, dotata di diffusore in vetro disposto a corolla intorno alla lampadina dove lo schema progettuale presenta componenti standardizzati e a basso costo, rispettando il rigore scientifico dei diagrammi illuminotecnici di luce riflessa. Ma il campione della nordica visione olistica identificata in una parola nell'organicismo è stato Alvar A. Alto, che ha sempre lavorato in collaborazione con la moglie Aino Marzio. Le loro architetture assolvono importanti funzioni pubbliche con linee morbide dalla forma semplificata ed una netta predisposizione per i materiali naturali. I loro esperimenti in legno erano orientati alla massima continuità della forma e alla esaltazione della flessibilità del compensato, ottenuta con un processo di stratificazione di strati leggeri e venati propri della fibra naturale della betulla, prodotti realizzati per specifici progetti architettonici. È il caso del sanatorio Paimio, struttura progettata per il ricovero di malati di tubercolosi, realizzata con estrema cura nei dettagli per la riduzione dei rumori e la rifrazione della luce naturale. Nello specifico la sedia Paimio per Artec, datata 1935, la sedia più nota di Alvar A. Alto, rappresenta la prova dello studio avanzato delle potenzialità del legno, laminato per la struttura e piegato per la seduta e lo schienale, così da dare anatomico comfort al corpo sdraiato. La stessa organica morfologia fu raggiunta nel vaso in vetro Savoy del 1936, prodotto ininterrottamente dalla Ittala sino ad oggi e considerato l'icona del design scandinavo grazie alla sua irregolare e ondosa forma, reminescente dei laghi e fiori nordici e coerente alle forme del legno solido che ne definisce lo stampo. L'oggettistica e i mobili in compensato curvato lanciati da Alvar A. Alto, essenziali nel concetto e nella forma, vennero spesso copiati con conseguenti azioni legali, risolte sempre a favore dell'azienda produttiva Artec. Essi di fatto innescarono un vero e proprio fenomeno di massa nei successivi anni 40 e 50, diventando nel tempo un incontestabile richiamo di moda alla casa nordica per l'arredo moderno. Grazie per la visione!